A metà della costa del Monte Estivo è visibile una piccola chiesetta, posta sulla sommità di un piccolo prato che interrompe il bosco. È l'eremo di San Giacomo. La chiesetta è sorta nell'anno 800, ad opera della popolazione locale, per sfuggire alle invasioni barbariche. Il documento più antico che attesta la presenza della chiesa è una pergamena del 1288. Un altro documento del 1342 rafforza l'ipotesi che il romitorio si trovasse sull'antico collegamento fra il Basso Sarca e la Valle di Gresta, e quindi la Valle dell'Adige. All'interno presenta degli affreschi e lo stato di conservazione è molto buono. Il comune di Arco, per rendere affluibile alla popolazione, ha dato in carico al Circolo Ricreativo di Bolognano di provvedere all'apertura festiva nei mesi estivi. Sono più di vent'anni che il Circolo si occupa della manutenzione dell'eremo qui di San Giacomo. Come vedete l'area è sempre ben tenuta grazie al volontariato del Circolo e in particolare a Maino Sergio che si occupa proprio effettivamente della manutenzione. Inoltre attraverso un piccolo contributo il comune di Arco teniamo aperta l'eremo affinché la gente possa visitarlo tutte le domeniche per i mesi di giugno, luglio ed agosto. È invitata tutta la popolazione, in particolar modo tutti gli arcensi, ma tutti quanti, a venire ogni domenica tutto il giorno. Chi sale qui trova la chiesa aperta, trova delle spiegazioni scritte, spiegazioni anche date da chi apre materialmente l'eremo e ha anche l'occasione di bere qualcosa e mangiare qualcosa. Ecco per raggiungere l'eremo di San Giacomo si deve prendere la strada provinciale 48 del Monte Velo e al chilometro 55 c'è la località Salve Regina dove si può lasciare la macchina e poi ci sono un paio di chilometri da fare, una bella passeggiata, un po' in salita, ma tranquillamente si può raggiungere a piedi l'eremo. Lo scopo del circolo è quello di favorire l'aggregazione della popolazione di Bolognano e frazioni limitrofe attraverso dei momenti conviviali. Di fatti il circolo, l'attività del circolo è un po' distribuita in tutto l'anno a cominciare dalla maccheronata di carnevale, poi organizza la tradizionale festa qui proprio all'eremo del primo maggio. Poi nel corso dell'anno il circolo organizza la tradizionale festa di Santa Lucia con la preparazione dei doni da offrire ai bambini, la cioccolata e il vin brulè. Poi il circolo prepara sempre cioccolata calda per l'asilo e la scuola elementare di Bolognano a cavallo tra appunto la festa di Santa Lucia e Natale e poi finisce con Natale della messa offrendo brulè e sempre cioccolata calda a chi partecipa alla Santa Messa.